Allora, buongiorno a tutti. Io sono il professore Andrea Volpi e in qualità di referente per l'orientamento in ingresso del corso di laurea in Ingegneria Meccanica vi vado ora a presentare quello che è appunto questo corso di studio. Nella slide vedete quelle che sono le figure incardinate nel corso di laurea che vi ho citato. In particolare oggi vi faccio la presentazione facendo le veci del Presidente, il Professor Bozzoli, dal momento che non era disponibile causa altri impegni di forza maggiore nella giornata odierna. Entriamo nel vivo del corso e andiamo a vedere che cosa fa l'ingegnere meccanico. Se andiamo a vedere la definizione scopriamo che l'ingegnere meccanico è quella figura che usa i principi della fisica, le conoscenze in ambito chimico, perché la scienza dei materiali altro non studia che la chimica appunto, che c'è alla base dei legami che costituiscono i materiali, io aggiungo anche gli strumenti che sono offerti dalla matematica e tutte queste conoscenze le applica in maniera concreta per progettare, per produrre oggetti e macchine che producono oggetti. L'ingegnere meccanico poi in quanto appunto è la figura che progetta le macchine è anche colui che si occupa poi di stabilire quelli che sono i piani di produzione delle macchine stesse. Quindi se andiamo a vedere quello che è l'output, il risultato dell'attività dell'ingegnere meccanico, il risultato è estremamente concreto. Un ingegnere meccanico progetta oggetti e al giorno d'oggi, visto anche quello che è il contesto odierno e l'automazione che consegue l'industrializzazione che caratterizza il nostro contesto, l'ingegnere meccanico si occupa anche di progettare le macchine che producono i prodotti. Macchine e i prodotti sono i due prodotti dell'attività dell'ingegnere meccanico. Poi ovviamente la manutenzione delle macchine non può che essere progettata anch'essa dall'ingegnere che ha una profonda conoscenza della macchina stessa perché lui stesso l'ha progettata e quindi si occupa anche di fornire quelli che sono i piani di manutenzione. In questa slide trovate quello che è il processo che porta dalla definizione di un concept di un nuovo prodotto fino all'immissione sul mercato dello stesso prodotto che consegue ovviamente la produzione massiva. Se trascuriamo la prima fase di analisi di mercato per capire in che modo il mercato potrebbe rispondere all'emissione di questo nuovo prodotto, l'analisi di mercato è finalizzata a definire quelle che sono le funzionalità di un prodotto e quelli che potrebbero essere i volumi di vendita e serve normalmente per andare a capire, a fare un progetto finalizzato a capire se la produzione, l'emissione del mercato del nuovo prodotto può essere conveniente per l'azienda. Se trascuriamo questa fase, in tutte le fasi che seguono l'ingegnere meccanico può essere impiegato utilmente per andare a realizzare questa che è una roadmap che vi porta dal concept di prodotto fino all'immissione sul mercato. Quindi una volta che l'analisi di mercato ha definito quelle che sono le specifiche e le caratteristiche funzionali del prodotto, l'ingegnere meccanico deve tradurre queste esigenze in scelte progettuali. Quindi deve andare a capire come, dando un'opportuna geometria, dando opportune caratteristiche al prodotto, riesce a rispettare quelle che sono le funzionalità che sono richieste dal mercato stesso. L'ingegnere meccanico si occupa di realizzare i primi prototipi. I primi prototipi saranno prodotti solitamente con metodi abbastanza artigianali perché si tratta di poche unità. I prototipi vanno poi testati. Va verificato come le funzionalità che sono state implementate nel prodotto effettivamente poi si trovano realizzate nel prodotto stesso. Ed eventualmente occorre anche magari rivedere alcune scelte progettuali. Quando si progetta un prodotto normalmente ci si trova sempre un pochettino in un contesto che io definisco della coperta corta. Nel senso che molto spesso esigenze progettuali differenti sono tra di loro incompatibili. Un tipico esempio è quello di fare un prodotto che sia bello, accattivante, deve avere molte funzionalità ma deve essere anche economico, molto resistente e leggero. Così tutti possono portarselo appresso. È chiaro che queste esigenze normalmente, anche senza sapere adesso di che prodotto nello specifico stiamo parlando, tendono un po' a stridere tra di loro. Elevato contenuto tecnologico, materiali leggeri e resistenti stridono normalmente col fatto che debba essere economico e possibilmente avere un elevato, elevati volumi di vendita sul mercato. Quindi quando ci si trova a dover realizzare delle scelte progettuali si deve cercare sempre di trovare una situazione di compromesso. E proprio in queste fasi progettuali si esplica quello che è un po' il genio creativo dell'ingegnere meccanico che deve riuscire a far conciliare tra di loro tutte queste esigenze. Una volta che il prototipo è stato realizzato, funziona e quindi l'azienda è giunta alla definizione effettivamente di quello che è il nuovo prodotto, sempre grazie all'attività dell'ingegnere meccanico, il prodotto deve essere industrializzato. Il primo prototipo o i primi prototipi li abbiamo realizzati con dei processi artigianali, manifatturieri, mentre se pensiamo poi a quello che potrebbero essere gli elevati volumi di vendita del prodotto occorre pensare a processi di produzione industriali. Tante volte nel passare da un processo produttivo artigianale e industriale occorre rivedere alcune caratteristiche del prodotto perché magari non tutte le fasi realizzative del prototipo possono essere realizzate dalle macchine e quindi occorre anche magari rivedere alcune specifiche per poter permettere la produzione del prodotto mediante le macchine. Poi occorre acquisire le macchine, magari le macchine esistono e occorre semplicemente modificarle. Magari invece se il prodotto è molto innovativo potrebbe essere necessario anche realizzare un impianto, realizzare una macchina ad hoc che vada a realizzare questo prodotto. Una volta che la macchina è in funzione e produce il prodotto occorre occuparsi della produzione. Anche qui l'ingegnere meccanico è la figura che riesce abilmente a ricoprire queste attività. Quindi occuparsi della produzione significa verificare che le macchine producano con criteri di efficacia ed efficienza, significa verificare che il prodotto che vado a produrre sia conforme agli standard, quindi fare il controllo qualità sul prodotto, significa fare manutenzione sulle macchine, perché le macchine di produzione lavorando chiaramente si usurano e occorre prevedere dei piani di manutenzione. Una volta che il prodotto è stato prodotto deve essere distribuito, quindi andrà stoccato nei magazzini e bisognerà occuparsi di una fase di trasporto per la distribuzione. Anche questo tipo di attività può essere svolta da un ingegnere meccanico. Vi ho fatto un esempio di un prodotto che viene ideato, commercializzato e prodotto da un'azienda, proprio perché normalmente l'azienda rappresenta lo sbocco occupazionale dell'ingegnere meccanico. Non a caso nei principali ambiti di attività di un ingegnere meccanico troviamo tutte quelle che sono le attività che si svolgono in azienda. Quindi l'ingegnere può essere occupato in ricerca e sviluppo, vedi la realizzazione del prototipo, progettazione, quindi può essere occupato in ufficio tecnico, produzione, seguire la produzione per seguire la massima efficienza produttiva, può essere un abile tecnico commerciale e occuparsi di vendite, soprattutto se il prodotto che l'azienda produce è un elevato contenuto tecnologico, può essere utile che sia una figura tecnica a veicolare queste informazioni al cliente e difendere, magari di fronte di altre offerte e di altri competitor, quello che è la bontà e il genio tecnologico che c'è all'interno del proprio prodotto. Può occuparsi di montaggio, collaudo, controllo qualità, può occuparsi anche di logistica, quindi approvvigionamento, materie prime, distribuzione dei prodotti, in generale ottimizzazione dei processi e poi ci sono tante altre attività che può svolgere un ingegnere meccanico all'interno dell'azienda. Perché scegliere ingegneria meccanica? Se avete passione per quelli che sono questi ambiti come il settore automotive, il settore auto space, il settore degli impianti produttivi e con particolare riferimento al nostro territorio, soprattutto anche tutta l'industria legata all'indotto che genera l'industria di trasformazione alimentare, ecco che allora ingegneria meccanica è la vostra disciplina. Se andiamo a vedere quello che fa un ingegnere a prescindere dal ramo di ingegneria che poi vi appassionerà, che sia ingegneria meccanica, elettronica, gestionale, civile o quello che è, quello che fa un ingegnere nel mondo del lavoro è quello di risolvere problemi. L'abbiamo già accennato quando abbiamo fatto l'esempio del prototipo. Ogni giorno, come nell'esempio del prototipo che vi ho portato, occorre risolvere delle sfide progettuali. Perché per realizzare una certa funzionalità devo fare una scelta, ma questa non va bene nei confronti di altre specifiche che deve avere il prodotto e bisogna trovare il compromesso. Quindi il fatto di risolvere problemi, di andare ad analizzare criticamente un problema e scomponendolo negli elementi costitutivi, andare pian piano a risolverlo al fine di trovare la soluzione, è l'approccio metodologico che vi resta dopo aver fatto, mi auguro, 5 anni, ovvero 3 più 2 di ingegneria. Nel corso degli studi affronterete molti problemi, vedrete la formula, vedrete l'esercizio nel quale si va a applicare la formula. Però quando vi troverete poi nel mondo lavorativo, vi troverete di fronte ad altri problemi che potranno essere simili, saranno diversi a quelli che avete visto in classe. Quello che vi deve rimanere al termine di ingegneria non è la nozione mnemonica della formula, ma vi deve restare l'approccio metodologico, la capacità di capire, magari non ricordare neanche bene nel dettaglio le formule, tanto avrete sempre accesso a tutta la manualistica che volete, una volta che andrete a lavorare, ma vi deve restare la capacità di approcciarvi e di scomporre i problemi. Questo è il miglior output che vi resta dopo aver fatto ingegneria. Se vediamo i form applicativi, su cui ho preso un'azienda a caso, comunque un'azienda blasonata del settore che richiede ingegneria meccanica, vediamo che tendenzialmente quello che richiedono le aziende sono, sì, le competenze tecniche e su questo punto posso dirvi che l'Università di Parma non ha nulla da invidiare ad attenere i blasonati, dal momento che vi posso assicurare e dopo di me farò anche spazio all'intervento di una nostra ex studentessa, vi posso assicurare che le aziende sono molto contente delle competenze tecniche che forniamo ai nostri laureati. Però oltre alle competenze tecniche, pensando al mondo del lavoro, vi occorrono anche competenze, quelle che tante volte vengono denominate soft skills, come ad esempio la capacità di lavorare in gruppo, la capacità di sostenere un ritmo lavorativo anche abbastanza elevato, capacità di gestire lo stress. Arriva il vostro capo e vi dice che un nostro importantissimo cliente vuole questa cosa entro la prossima settimana. Chiaramente è un cliente importante, l'azienda deve dare una risposta e significa mettere in moto un meccanismo per fornire una soluzione al cliente. Il problem solving, che lo abbiamo già discusso, l'ha la passione per quello che fate, pensando a quello che può essere l'orizzonte lavorativo, che al giorno d'oggi sembra essere non minore di 40 anni. Chiaramente avere un lavoro per il quale si sviluppa una forte passione è assolutamente un requisito, secondo me imprescindibile, per poter affrontare con serenità il mondo del lavoro. E la conoscenza della lingua inglese. Il nostro Ateneo vi offre dei corsi in lingua inglese, ma anche molte opportunità di internazionalizzazione, tra cui alla laurea magistrale la possibilità di un percorso di due anni completamente in lingua inglese, piuttosto che percorsi a doppia titolazione con permanenza di sei mesi negli Stati Uniti. Quindi anche dal punto di vista dell'internazionalizzazione siamo completi. Andando a vedere quello che il nostro Ateneo vi offre, siamo assolutamente in grado di rispondere a tutte quelle che sono le esigenze delle aziende. E proprio a questo proposito lascio adesso la parola per un breve intervento a una nostra ex studentessa, che è l'ingegner Valentina Bo, che ha studiato presso l'Ateneo di Parma, svolgendo sia il percorso di laurea trennale che il percorso di laurea magistrale in ingegneria meccanica. Spero che vi dia, ma un po' ci siamo anche messi d'accordo, un ottimo feedback su quello che è stato il suo percorso. Prego Valentina. Grazie. Buongiorno a tutti. Sono Valentina Bo, mi sono laureata l'anno scorso. Quello che del mio percorso universitario ho apprezzato maggiormente è sicuramente il piano di studi proposto dall'Università di Parma. Le materie che ho studiato mi hanno fornito tutti gli strumenti necessari a garantire un approccio ingegneristico nella realtà di tutti i giorni. Ho avuto modo di affrontare tanti argomenti appartenenti a settori differenti. Durante il percorso di laurea lo studente può cogliere alcune tra le tante opportunità proposte, come tirocini curricolari in grandi aziende di Parma e delle zone limitrofe, ma anche in realtà medio-piccole. non solo, come diceva il Professor Volpi, anche la possibilità di fare esperienze all'estero. Il corso di laurea è sicuramente impegnativo e sfidante, ma anche interessante e tanto stimolante. Con metodo, costanza, passione e tanta curiosità è possibile riuscire ad ottenere il contatto soddisfazione e il risultato finale. Io attualmente lavoro da più di un anno. Ho avuto modo di toccare svariati ambiti. Ho lavorato in un ufficio acquisti indiretti di una grande realtà della zona e attualmente lavoro in una realtà più piccola. L'azienda in cui lavoro progetta e realizza componenti in materiale composito. Io personalmente, come ingegnerina azienda, mi occupo della parte di pianifica della produzione, quindi calcolo della redditività e analisi delle tempistiche. Quindi mi occupo anche di tutto quello che è il processo di miglioramento e di ottimizzazione dei processi. Non solo, essendo anche in una realtà abbastanza piccola, mi occupo anche tutta della parte di gestione dei progetti e quindi mi interfaccio direttamente con i clienti, sia italiani che stranieri. Sono quindi molto contenta della scelta che ho fatto. Rilascio la parola al professor Volpi. Grazie mille Valentina. Proseguiamo con la presentazione. Sicuramente uno degli ambiti di maggior interesse del settore automotive. Per chi studia ingegneria meccanica, io ora non lavoro in quest'ambito, però confesso che quando mi sono iscritto effettivamente è stata una delle ragioni sicuramente per la quale ho scelto ingegneria meccanica. Per chi è appassionato del settore automotive c'è la possibilità di entrare fin dal primo anno all'interno del team della Formula 6. Il team della Formula 6 è un team di ragazzi, si chiama un IPR Racing Team, che sviluppa una vettura monoposto da competizione, che va a competere in un campionato denominato appunto Formula 6, che vede coinvolti tutti i team di altri studenti di altre università europee. Il nostro team a partire dal 2018 sviluppa e cambia di anno in anno, andandola sempre a migliorare una vettura monoposto da competizione, che è a trazione completamente elettrica e come ho visto anticipato anche il professor Ferrari che ha fatto la presentazione prima di me, quello su cui sta lavorando quest'anno è l'implementazione di un sistema di guida autonoma. Entrando nel piano degli studi, che non vi vado a sviscerare in ogni singolo esame per non tediarvi, dal momento che, se volete queste informazioni, c'è a disposizione il libretto del nostro Dipartimento che comprende tutti i piani di studi dei corsi che andiamo a erogare. Però andando a vedere la macro struttura del piano di studi, vediamo che a partire da una formazione scientifica di base, che riprende un po' quelle che sono le materie che studiate alle scuole superiori, si va poi a inserire una formazione ingegneristica via via, sempre più dettagliata, quindi una formazione ingegneristica di base per capire come funzionano le cose e una professionalizzante per andare ad avere le competenze necessarie per progettare di fatto oggetti e macchine che producono oggetti. Al termine dei tre anni avete il titolo di laureato trenale in ingegneria meccanica e dopodiché come proseguite? Il mio consiglio è quello di non fermarvi nel mondo del lavoro, anche se mai, come in questo contesto, quello odierno le aziende richiedono e vogliono ingegneri meccanici anche triennali, ma quello di proseguire con una laurea magistrale. Noi offriamo una laurea magistrale in ingegneria meccanica, non specializzata, che però ha tre curriculum, in particolare energia, progettazione e automazione barra meccatronica. Gli stessi tre curriculum che abbiamo anche la laurea triennale e che dopo vi vado a presentare. Abbiamo una laurea magistrale erogata completamente in lingua inglese, in engineering for the food industry, che ovviamente nasce a Parma proprio per quella che è la connotazione del nostro territorio, nonché altre lauree magistrali. Faccio presente che sulla laurea magistrale in ingegneria meccanica abbiamo un percorso a doppia titolazione con il New Jersey Institute of Technology, quindi potete fare un bel percorso che vi richiede di stare sei mesi nel New Jersey, al termine del quale avete, oltre al titolo italiano, anche il titolo erogato dall'Ateneo statunitense, come se aveste frequentato là i cinque anni di università americana. Quindi un titolo di assoluto pregio e valore che può essere un trampolino di lancio anche per un'esperienza magari lavorativa conseguente il titolo negli Stati Uniti. I tre curriculum che abbiamo alla triennale e che sono ripresi anche alla magistrale sono i curriculum di energia meccatronica e in generale di progettazione industriale. sostanzialmente il primo è relativo alle energie sostenibili, il secondo a tutta quella che è la meccatronica e l'automazione, il terzo alla progettazione dei componenti meccanici. Andando a vedere, a fare una carrellata così conclusiva di quelli che sono gli ambiti che caratterizzano l'ingegneria meccanica abbiamo sicuramente tutta la parte di macchine. Se pensiamo alla produzione del lavoro meccanico e a quelle che sono le sue conversioni, bene o male ricadiamo sempre a considerare fluidi e alberi di trasmissione, lavoro meccanico. Lavoro meccanico e energia elettrica ad oggi viene prodotto primariamente attraverso dei cicli a vapore. Quindi tutta la parte di macchina che studia appunto gli impianti per la produzione di energia elettrica, tutte quelle che sono le macchine a fluido, quindi motori, turbine, pompe, compressori, tutta la parte di trasferimento dell'energia meccanica attraverso fluidi come eolodinamica e pneumatica. Ecco questo è l'ambito di macchine che caratterizza principalmente il curriculum energia assieme alla parte di fisica tecnica. La fisica tecnica studia la termodinamica, la fluidodinamica, la trasmissione del calore, il moto dei corpi all'interno dei fluidi e l'energetica e gli impianti termotecnici. Tornando al curriculum più di progettazione e costruzione abbiamo la parte, gli ambiti caratterizzanti della meccanica applicata alle macchine, quelli che sono gli studi in quest'ambito sono l'attrito, l'usura e la lubrificazione, la parte di meccatronica, gli azionamenti meccanici, i robot, lo studio delle vibrazioni e le trasmissioni meccaniche. Abbiamo poi la parte di progettazione meccanica e di costruzione di macchine che serve a caratterizzare i componenti. Quindi se io devo realizzare un certo prodotto che deve resistere a certe sollecitazioni meccaniche, devo dare una forma, ma la forma dipende dalle caratteristiche del materiale che impiego. Se uso un materiale metallico che ha maggiore resistenza posso farlo più piccolo e leggero, se lo faccio in materiale plastico sarà un pochettino più ingombrante, però magari più leggero perché comunque sarà richiesta minore quantità di materiale. Ecco che allora la progettazione meccanica e la costruzione di macchine servono a caratterizzare i materiali e una volta caratterizzati i materiali a definire quelle che sono le geometrie ottimali, anche mediante l'impiego di prove sui materiali, prove sui prototipi e simulazione numerica, perché il prodotto e il componente possa resistere le sollecitazioni. La tecnologia meccanica studia quelli che sono i progetti, i processi che portano alla produzione dei componenti sia quelli più tradizionali sia quelli più innovativi. Abbiamo anche un corso completamente in lingua inglese in Advanced Manufacturing Technology disponibile alla laurea triennale. Chiaramente i processi più tradizionali, fusione, deformazione, lavorazione di macchine utensili, poi sinterizzazione, stampa 3D, piuttosto che altre tipologie di processi produttivi, sono quelli più innovativi. La parte di impiantistica meccanica che studia gli impianti, i servizi generali, studia come bilanciare ed efficientare gli impianti produttivi, gestisce la parte di logistica, in generale tracciabilità, quello che fa Valentina, ad esempio pianificazione della produzione e reporting dei costi di produzione. Ecco, vi lascio con un'ultima slide nella quale trovate tutti i contatti dei referenti del corso. Professor Bozzo, vi dicevo, è il Presidente, io sono Andrea Volpi e sono responsabile, il delegato dal Presidente, per l'orientamento in ingresso. Prima di andare vi ricordo due cose. Una, prima, è che siamo disponibili al banchetto, anche qui in aula dal momento che questa è l'ultima presentazione, per rispondere alle vostre domande. E la seconda, vi chiedo due minuti, perché Valentina voleva terminare l'incontro con quella che è stato così un altro commento sulla sua esperienza all'Università. Grazie a tutti, ci vediamo poi al banchetto prossimamente. Spero di vedervi ai cubi, alla sede scientifica di ingegneria in qualità di neo immatricolati presso il nostro Ateneo. Ti lascio Valentina. Grazie mille. Volevo solo concludere dicendo che un grande valore aggiunto che bisogna tenere in considerazione è il campus di Parma, facilmente raggiungibile dal centro città con i mezzi pubblici, ma anche con la propria auto, che permette di vivere a pieno l'esperienza universitaria. Offre aule, biblioteche e grandi spazi, sia all'interno che all'esterno, che favoriscono la giusta concentrazione per lo studio individuale, ma anche il confronto necessario allo svolgimento di progetti di gruppo. Inoltre, l'Ateneo offre servizi a prova di studente, due mense e un centro sportivo con strutture all'avanguardia che permettono di praticare svariati sport. Concludo quindi dicendo che il mio consiglio è quello di iscriversi al corso di Ingegneria Meccanica dell'Università di Parma, perché offre agli studenti l'approccio e la mentalità e le conoscenze necessarie per fare la differenza nel mondo del lavoro. Grazie. 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 Grazie.